Ancora sbarchi di migranti, due imbarcazioni con 207 persone sono state localizzate nel canale di Sicilia, circa 100 miglia da Lampedusa. Allora per saperne di più noi ci colleghiamo subito in diretta con il nostro inviato sull'isola. Eccolo già pronto, Matteo Parlato. Buongiorno, sì, come hai giustamente detto te ci sono nuovi arrivi in corso e poi dopo quello che tu hai segnalato c'è un terzo evento che arriverà qui sull'isola nella tarda notte con 85 persone. E stamattina, come vi abbiamo mostrato in diretta su Rai News 24, c'è stato un altro evento. Intorno a metodo giorno sono arrivate 52 persone, 42 uomini, 10 donne di cui due incinta. E circa tutta questa questione c'è stato un Twitter del Presidente della Camera Boldrini che chiede più coordinamento agli stati per l'aiuto in mare agli immigrati. E poi conclude, soccorrere è un dovere giuridico e morale. E qui a Lampedusa vogliamo ricordare che dall'inizio dell'anno sono stati soccorsi 4.000 migranti. E come tutti quanti voi sapete, lunedì scorso un figlio di emigrati è venuto qui a Lampedusa. La visita del Papa è stato un evento importantissimo per quest'isola. E noi abbiamo parlato con il parroco di Lampedusa e gli abbiamo chiesto qual è stata la sua emozione subito dopo che il Papa è andato via. L'emozione di questa visita, sentiamo che cosa ci ha raccontato. Non mi aspettavo tanto, non mi aspettavo tanta attenzione, mi sono sentito anche in qualche passaggio in difficoltà, perché quello che si è chiesto sempre era la vicinanza del Papa, del Vescovo di Roma, ma a questa comunità e attraverso questa comunità al cuore della Chiesa. Lui ha osato più di quanto noi avevamo desiderato. Io ho detto sempre, noi non abbiamo fatto niente di eccezionale, non siamo migliori degli altri, non siamo più assoluti. Forse trovandoci in una fragilità maggiore degli altri, meglio abbiamo compreso le fragilità degli altri. Anche lì va letto un po' il lavoro degli anni passati o del tempo passato come anche del tempo presente per certi versi. L'emozione è stata tanta, l'attenzione molto grande, ma penso che la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata questa capacità di Papa Francesco di ascoltarci, di raccontarci al suo cuore e dal racconto al suo cuore poi quell'invito alla compassione e alla tenerezza.